Disastrosa la trasferta della Valdinevole Montecatini in Liguria, i termali tornano a casa dopo aver incassato 5 reti dal finale Ligure. Uno stop a quello contro un'avversaria diretta nella corsa alla salvezza che pesa in chiave play-out. E se guardiamo la classifica si capisce quanto la situazione dei bianco celesti sia molto compromessa. La forbice dal tredicesimo posto è salita a 12 lunghezze, già con 8 non ci sarebbero gli spareggi e si retrocede direttamente. Chi sta dietro ha perso, vedi Scandicci e Argentina, ma conta poco. Le squadre appena sopra hanno tutte vinto in questo turno, Sandonato-Tavarnelle, Savona e lo stesso finale. Questo scenario quando mancano solo 15 giornate alla fine del campionato. Rialzarsi dall'ultima sconfitta non sarà facile, anche se questo KO può avere alcuni attenuanti. I lenni colpiti, l'aver giocato in dieci per l'espulsione di Melis, l'assenza del senegalese Fal, in dubbio anche per la prossima sfida, e l'aver dovuto rinunciare all'ormai lungo de gente a Grifogli. Fatto sta che Montecatini non può permettersi più passi falsi. Oggi pomeriggio sono ripresi gli allenamenti in vista del match casalingo di domenica prossima con Seravezza, formazione e rivelazione della stagione. Al Mariotti conta solo vincere, è tempo di cambiare passo.